Il Tribunale di Messina ha condannato Unicredit a rimborsare a 24 proprietari di appartamenti in cooperativa le somme di un mutuo con interessi usurai e oltre alla restituzione del denaro versato e al pagamento delle spese legali la banca è stata anche condannata al risarcimento del danno. A darne notizia l'avvocato Ernesto Fiorillo, presidente nazionale di consumatori associati, che dice la nostra causa è durata 10 anni ma finalmente abbiamo avuto ragione. La banca dovrà non solo azzerare ogni richiesta di denaro ma addirittura restituire le somme che sono state pagate dai 24 proprietari. Il legale sostiene che in questi anni ha cercato in tutti i modi di dialogare con la banca per consentire la liberazione degli appartamenti dalla ipoteca ma l'istituto di credito ha sempre opposto un netto rifiuto. E Fiorillo ha annunciato che sta preparando altre 24 cause contro la banca perché a causa dell'illegittima ipoteca i proprietari non hanno potuto vendere le loro case che nel frattempo si sono svalutate. Il danno stimato per quest'ultimo procedimento è andato a sentenze di oltre 3 milioni di euro il provvedimento del giudice Madia del Tribunale di Messina.